E benvenuti nel mondo SIGA giochi preziosi, dice ma chi è SIGA? SIGA è il leader mondiale, l'azienda leader mondiale nella produzione di videogiochi e Giochi preziosi è il distributore esclusivo per l'Italia. Giocheremo insieme a SIGA Giochi preziosi, un gioco difficilotto a dire il vero, 500 mila lire in palio per ogni telefonata. Posso avere una prima telefonata signor Boncompagni? Chi lo sa? Sì. Pronto? Ciao, sono Luigi. Ciao Luigi, da dove chiami? Da Roma. Da Roma, quindi sei qui vicino? Sì, esatto. Dove? Vabbè, non vogliamo entrare nella tua vita assolutamente. Io ti faccio conoscere subito Sonic, Sonic è la mascotte dei videogiochi SIGA, questo simpatico riccio che ci porta la proposta SIGA di quest'oggi, Mega Drive. Mega Drive è una console eccezionale, pensa, Mega Drive ha 16 bit di potenza, tieni Sonic, 16 bit di potenza e quindi colori vivacissimi e suono stereofonico. Il gioco, il gioco è molto semplice. Adesso io prendo la console Mega Drive di SIGA giochi preziosi e la metto nello zainetto Sonic di una di queste 30 ragazze che vedi sul nostro palco. Nel qual caso Pamela, una veterana per quanto giovanissima, 15 anni e per quanto paffuta anziché no, perché ci dà dentro col panino e la mortadella. No, diciamo la verità, è inutile Pamela nascondersi dietro queste cose. Adesso loro balleranno, tu presta molta attenzione perché lo zainetto con l'interno Mega Drive che è sulle spalle di Pamela finirà sulle spalle di un'altra ragazza. Dovrà individuare quale ragazza è. Musica! 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 Caro Luigi, caro Luigi, come va? Bene. Sei riuscito ad individuare che cosa è successo? Sì, credo di sì, potrei rivedere le ragazze? Vuoi rivedere le ragazze? Vuoi seguirle assieme a me scorrendole come fosse un catalogo? Grazie. Eccoci qui. Allora, la seconda. Ah, già siamo arrivati. La seconda. Sì. La seconda. Dice Alessia quindi? Sì, Alessia. Sì. Alessia. 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 Capri 20, 500 mila lire per te Luigi. Grazie. E rimettiamo la console Mega Drive nello zainetto di Alessia. Possiamo avere un'altra telefonata? Altre 500 mila lire in palio. Pronto? Pronto? Pronto. Salve signora. Pronto? Pronto? Sì, ciao Paolo. Ciao signora, da dove chiama? Da Cinisello. Da Cinisello. E si chiama? Anna. Anna, ha capito il meccanismo del gioco, vero? È un po' difficile però, eh? È un po' difficile. E beh, 500 mila lire signora, se no davamo noccioline. È vero. Lo zaino Sonic con all'interno Mega Drive sulle spalle di Alessia. Adesso le ragazze prepareranno un'altra coreografia molto bella. Seguo attentamente dove finisce lo zainetto Sonic con Mega Drive all'interno. Prego ragazze. Grazie a tutti. Anna, come sono tante! Anna, hai visto che brava le nostre ragazze? È molto brava. Tu sei stata in grado di individuare dove è finito lo zainetto? Eh, insomma, non sono riuscita, sono state troppo brave. Loro sono state troppo brave? Sì. Non è difficilissimo, dai. Insomma. Ci sono 15 secondi di tempo e non tantissimi. Di un nome. È un po' già lì dall'inizio. Come? Mi fa vedere le ragazze? Sì. Dimmi stop, dimmi stop. Sì. Occhio che io qua cado sempre. Dimmi stop. Eh sì. E dimmi stop, io arrivo al muro, poi faccio un impatto violento. Toglio un po' indietro. Inghietro? Ti diverti, eh? Fermati. No, un po' più indietro. Quella ragazza Bruna. Lei? Sì. No, non ci siamo assolutamente, non ci siamo. Purtroppo il Mega Drive era nelle spalle di Alessia, eccola qui, e di Emanuela, perdonami. Alessia era quella che l'aveva precedentemente. Eccolo qui, la console Mega Drive di Siga Giochi Preziosi. Peccato, peccato, peccato. Comunque grazie per aver telefonato, Anna. Mega Drive vi coinvolge nell'avventura, non dimenticatelo voi che amate videogiochi o voi che tra poco imparerete ad amare i videogiochi. Allora, prendiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Pronto. Salve, signora. Ciao, sono Lucia di Frosinone. Eh? Ciao Paolo, sono Lucia di Frosinone. Ciao Lucia di Frosinone, come va Frosinone? Bene, bene, pagando. Sono contento. Sai che ci sono 500 mila lire in palio, più 500 mila lire, quindi un milione per te. Attenzione. Vedi lo zanetto Sonic con Mega Drive sulle spalle di Manuela? Su quali spalle finirà? Adesso loro ballano e tu fai attenzione. Prego. Grazie. 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 Lucia, allora, per un milione, dove è finito lo zanetto Sonic con all'interno Mega Drive? Me le fai vedere tutte? Le vuoi vedere tutte? È piano però, eh? È piano, hai 15 secondi, eh? Sì. Più vado veloce io, più probabilità hai tu. Avanti, avanti, avanti. Mi diverte questa cosa. Avanti, avanti, avanti. Fermati, fermati, vai indietro. Ancora, ancora. Dietro, dietro, quella con i capelli che ti porti a caschetto. Quella con i capelli? Vincino a Raffaella. No, questa, no, no, l'altra, l'altra. Vai avanti, vai avanti. Fermati! Sì, comunque è scaduto il tempo. Eh no, io ti stavo dicendo vicino a Raffaella. Hai ragione, ma guarda dov'è, guarda dov'è, vieni con me. È Simona che ce l'ha, è Simona, quindi stavi sicuramente sbagliando. Mi dispiace, mi dispiace, vedi? Io apro lo zainetto Sonic e trovo la console Mega Drive. Peccato, peccato. Grazie comunque, amica di Prosinone. Posso avere per favore questo bellissimo videogioco? Eccolo qui. Perché vi faccio vedere Sonic? Perché al momento dell'acquisto della console Mega Drive di Siga Giochi Preziosi troverete in omaggio questo videogioco Sonic con delle avventure molto belle. Sono le avventure di un riccio che combatte contro dei nemici terribili scatenati dal perfido Ivo Robotnik. Grazie al suo Spin Attack System riesce a compiere delle mirabolanti peripezie. Quindi mi raccomando, ricordate che all'acquisto della console Mega Drive di Siga Giochi Preziosi riceverete in omaggio questo videogioco, questa cassetta Sonic. Tieni. Grazie. Un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Ciao Paolo. Mamma mia. Sono Pietro da Salarzius Cagliari. Ciao da Cagliari. Hai ingoiato un trombone. Eh sì. Hai una voce incredibile. Eh dobbiamo un po' di aiutarmi, va. Sì, ti aiuterò sicuramente. Vediamo. Allora, lo zainetto Sonic con all'interno la console Mega Drive sulle spalle di Simona. Adesso loro balleranno, tu dovrai cercare di individuare, lo sai benissimo, per un milione e mezzo su quali spalle finirà lo zainetto Sonic con Mega Drive. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti.